Apparteneva a una famiglia di attori. Suo nonno, Gerardo Cosenza, fu autore ed attore teatrale dal 1866 al 1925. I genitori Margherita e Gennaro Pisano per 12 anni recitarono nella compagnia di Raffaele Viviani. E poi, dal 1933 al 1952, in quella dei Fratelli De Filippo. Infine lo zio Gigi Pisano fu autore teatrale ed attore comico. Insieme a Giuseppe Cioffi formò una nota coppia della canzone napoletana dal 1927 alla fine degli anni 50, ancora adolescente e debutta nella compagnia dei De Filippo. Rimanendo successivamente con il solo Edoardo dopo la separazione tra il medesimo ed il fratello. Peppino, la troviamo tra le interpreti di questi fantasmi. Filumena Marturano, Le Voci di Dentro, Napoli Milionaria e decine di altre commedie che porteranno la compagnia in giro per i maggiori. Teatri italiani, ed anche davanti ai microfoni della RAI. Nella stagione 1952-53 è tra i protagonisti della rivista musicale Tarantella napoletana di Ettore. Giannini, nel 1953-54 è al fianco di Ugo Tognazzi nella commedia brillante Barba Nera Bel Tempo si spera di Scarnicci e Tarabusi. Rosita Pisano passa successivamente dal 1955 al 1959 con Nino Taranto. Impegnata in una serie di commedie quali Bello di Papa, L'ultimo Scugnizzo, Caviale Lenticchie ed altre ancora. Debutando nello stesso periodo in televisione. Dal 1963 al 1966 recita Napoli al Teatro Bracco in una serie di fortunate commedie brillanti. Come la monaca Fauza, nella quale il protagonista, nella stagione teatrale 1967-68 viene chiamata dal regista Giuseppe Patroni Griffi ad interpretare. La figura di Nannina nell'atto unico la musica dei ciechi di Raffaele Viviani. Recitando quindi la parte che nel 1917 fu di sua madre Margherita accanto allo stesso Viviani. Questo allestimento teatrale, oltre che in giro nei massimi teatri italiani, fu portato in tournée anche in Germania, a Weiswaden, ed in Inghilterra, a Londra, all'Oldvich Theater, nella stagione 1968-69. Accanto a Renato Rush e l'Inventi Zecchini d'Oro. Commedia musicale scritta da Luigi Magni e Pasquale Festa Campanile con la regia di Franco Zeffirelli. È molto attiva anche nel doppiaggio, specializzandosi in voci di popolane napoletane come in Operazione San Gennaro o nel Giudizio Universale. Nel 1971 affianca Anna Magnani e Massimo Ranieri nel film per la televisione La Scientosa di Alfredo Giannetti. Moglie dell'attore Mario Frera. È la madre del cantautore Paolo Frescura. Muore all'età di 56 anni.